Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, ve la do io l'Indonesia. Come potete vedere siamo nel Borneo, in città, fognatura a cielo aperto, cavi elettrici che girano immersi nelle fognature, linee telefoniche e internet nelle condutture fognarie. Di qua lo spettacolo continua, ogni tanto salta via qualche linea, vediamo delle fiammate, delle scintille, vediamo l'acqua ribollire e dei ratti enormi friggersi sotto le scariche elettriche. Questo è un po' il costrutto del posto, la caratteristica. Come potete vedere siamo in centro città, zona molto trafficata, bisogna stare attenti, di pedoni non ce ne sono, qui abbiamo anche Moto Family. Bisogna stare attenti perché se si cammina solo a prensiero si rischia di cadere nelle condutture fognarie dove ci può essere anche il coccodrillo. Ok ragazzi, cari amici del web, continuate a seguirmi online e ve la do io l'Indonesia. Grazie. Grazie. Grazie.